Arrivati sul sito www.tessilan.com, cliccare su accedi, inserire indirizzo mail e password e cliccare su accedi. Entrati nel vostro account, per richiedere il codice del buono sconto dovrete successivamente cliccare su i miei punti fedeltà. I riquadri illuminati saranno quelli di cui potrete richiedere il codice del buono sconto. In questa schermata, oltre a vedere i punti attualmente disponibili, potrete vedere anche i buoni richiesti in precedenza, il relativo stato e anche tutti i punti che avrete accumulato durante ogni singolo ordine. Per richiedere il codice di un buono per i punti fedeltà, dovrete cliccare su clicca qui, una volta deciso quale buono vorrete richiedere. Sei sicuro di voler trasformare i tuoi punti in un buono? Una volta certi di volerlo fare, cliccate su ok. Potrete quindi vedere i punti disponibili e anche il buono che avrete appena generato. Quindi, quando è stato creato, il valore, il codice e la validità, dall'inizio alla fine e ovviamente lo stato. Per poterlo utilizzare dovrete copiare il codice e inserirlo all'interno di questo riquadro, cliccando poi su aggiungi. A questo punto potrete vedere l'effettiva validità e aggiunta del vostro buono nel momento in cui vedrete punti fedeltà e soprattutto che dal totale dell'importo è stato scalato lo sconto che avete richiesto. Potrete quindi procedere al completamento dell'ordine.